salve qui ancora una volta il vostro santencian salve a tutte e tutti voi che mi seguite ma in modo particolare a claudio show che è un mio follower ed amico di facebook e mando i miei più vivi saluti anche agli amici di rcd radiocalcio dilettanti che so che mi seguono e che mi hanno menzionato in uno dei loro ultimi programmi che fanno della musica interessante ora non so se trattano anche di calcio ma la musica che ho ascoltato è veramente interessante è tanto tempo che volevo radio trasmettere in sprecher quello che è successo però è che mi sono dedicato a caricare dei video in youtube quindi vi invito a tutte e tutti voi di guardare nel mio canale di youtube santencian poi una novità che ho visto è che sprecher ti dà appena 15 minuti tanto per caricare indifferita come dal vivo quindi il messaggio di oggi sarà breve ed essenziale la gente è stanca della vecchia politica degli inciuci e della corruzione ed è per questo che in molti hanno appoggiato il movimento 5 stelle ma c'è un ma e però adesso che il movimento 5 stelle si sta trasformando in un vero e proprio partito politico a prescindere dal nome che mantiene cioè movimento 5 stelle nel suo simbolo e che gli tocca governare sul serio e non stare a fare dell'opposizione come per decenni dal dopoguerra fatto il partito comunista italiano che sapevano che non avrebbero mai governato come forza di coalizione e di maggioranza che durante la prima repubblica avevamo la maggioranza relativa già si vede tutti i problemi che hanno nell'amministrazione capitolina che non sono differenti dai problemi che affrontano le altre forze politiche nel gestire altre città d'Italia quindi io non riesco a capire tutti i conflitti che ci sono in Italia il dualismo il manicheismo politico in Italia o sei a favore dei 5 stelle o sei contrario io non sono né contrario né a favore credo che sia una delle poche alternative bisogna lasciarli governare ma non sono a favore tutto curto ad oltranza bisogna non essere simpatizzanti sostenitori fanatici ma essere cittadini elettori critici votare per ciò che sentiamo migliore poi per quanto riguarda il referendum costituzionale bisogna dire che il contesto è diverso cambiare adesso la costituzione con tutto questo manicheismo questo conflitto duale politico non porta a nulla di nuovo che nel dopoguerra c'era un altro clima di compartecipazione e collaborazione incluso fra forze diverse e antagoniste MSI e partito comunista italiano collaboravano più di quanto collaborino le attuali forze politiche poi oggigiorno non c'è più una destra e una sinistra in quegli anni c'era ed era più facile il dialogo politico si sapeva chi stava da che parte e che faceva quindi attualmente io non credo che ci sia nessuna forza politica che abbia una dirittura morale come per cambiare la costituzione men che mai a colpi di maggioranza comunque state in guardia o voi che non volete il cambio costituzionale perché di solito come è successo nell'ultimo referendum quello sulle trivellazioni ha vinto sempre il menefreghismo e l'astenzionismo state attenti che Renzi è bravo ad attizzare la sua militanza quindi non sia che questa volta il menefreghismo sia di quelli che vogliono votare il no e fanno gli astenzionisti perché magari i pochi che vanno a votare vanno a votare sì e in questo modo passa il cambio costituzionale mi raccomando tutti a parole dicevano che erano contro le trivellazioni in internet e poi non è andato a votare nessuno né per il sì né per il no a genova c'è stato il più grande tasso di astenzionismo se no il referendum passava non sono neanche andati a votare no e poi si lamentano delle delle fughe di petrolio che ha inquinato tutti i campi e avvelenato la gente prima te ne freghi prima non vai a votare poi paghi le conseguenze e ti lamenti e no caro mio o si vota sì o si vota no e allora ci si può lamentare di quello che si è fatto o di quello che hanno fatto gli altri ma se non vai a votare dopo non ti puoi lamentare di nulla vinca il sì o vinca il no perché se non vai a votare vuol dire che accetti qualsiasi risultato che esca dalle urne quindi se a te sta bene qualsiasi cosa non andare a votare per il referendum ma se vuoi il cambio della costituzione o se vuoi che non cambi vota sì o vota no ma vota così almeno ti potrai lamentare per qualcosa io consiglio tutti di votare no cioè contro il cambio della costituzione perché in questo clima di conflitti e di confrontazioni politiche violente senza contenuto ideologico io non credo che il paese stia nelle migliori condizioni come per fare un vero cambio costituzionale si dovrebbero tutte le forze politiche trovare in sintonia come è successo nel dopoguerra attorno alla difesa di interessi comuni quello che attualmente non si vede nell'orizzonte quindi che altro dirvi poi ho fatto un video perché la mia prima reazione alla vigneta di charlie hebdo sul terremoto nel centro italia in amatrice è stato di ripudio di ribrezzo e di schifo però mi sono reso conto e l'ho detto nel video che a parte quello che magari loro vogliono vendere più testate facendo note sensazionalistiche ma in effetti chi ha messo troppa sabbia nel cemento nel calcio estruzzo nel cemento armato ferro di cattiva qualità che si è ossidato si è piegato perché in giappone se ci sono i sismi uguali e meno vittime come ha detto charlie hebdo le vostre case le hanno fatte la mafia non charlie hebdo la connivenza la concussione di politici imprenditori e mafiosi c'è dai tempi del terremoto dell'irpinia nel 1980 in cui in un giornale italiano si diceva come mai un terremoto più forte in giappone nel 1980 lo diceva ha lasciato appena qualche centinaio di vittima e nessun edificio distrutto o qualche cassa battuta appena e invece nell'irpinia lo stesso anno migliaia di morti e decine o centinaia di migliaia di sfollati che hanno vissuto più di 20 o 30 anni intende e che ancora adesso paghiamo 30 anni dopo 3 miliardi di euro di quello che ci continua a costare il terremoto e che paghiamo ancora a cise sul sulla benzina e tasse sul cibo per per i terremotati del molise no dell'irpinia della basilicata perché in giappone si fa opera di prevenzione e con efficienza si spende un milione di dollari no in italia invece si fa opera postuma di ricostruzione e invece di spendere un milione di dollari ne spendiamo 100 milioni di dollari almeno era così negli anni 80 in giappone spendevano milioni di dollari per prevenire e quasi non moriva nessuno e quasi non cadeva nessun edificio in italia invece si pensava a fare le cose dopo che era arrivato il terremoto e per ricostruire e pagare le assicurazioni e tutto si pendevano a volte miliardi di lire cioè milioni di dollari dell'epoca le cose dal 1980 non sono mai cambiate evidentemente è meglio ricostruire che non prevenire perché è un negozio tondo tondo per politici imprenditori e gente collusa mafiosi eccetera eccetera palazzinari imprenditori che ridono al telefono delle disgrazie dei terremotati dicendo con questo sì che ci guadagneremo un sacco di soldi però ahimè questa è l'italia che abbiamo e questa è l'italia che ci meritiamo per aver messo dove stanno i politici che abbiamo messo d'altra parte i politici nostri non sono venuti dallo spazio come mazinga zeta superman goldrache ma sono nati nel nostro paese quindi sono realmente cittadini come noi che noi gli abbiamo permesso di fare la carriera che hanno fatto in più di 50 anni lasciando figli e nipoti e così ci siamo fottuti con le nostre mani perché siamo troppo individualisti e pensiamo ai vantaggi di ognuno di noi chi si salvi chi può chi non può è perduto salti chi può e così ci fottiamo prima o poi perché tutta questa ma la classe dirigente ce la ritroviamo a governarci e a dire cazzate e ogni volta i politici sono peggiori per esempio si è passati dal regno di andreotti più di 50 anni a quello di mortadella d'alema e berlusconi che per vent'anni si direbbe che non c'è stato nessun altro politico a parte qualche governo tecnico interino con il d'alema che era più di destra che di sinistra prodi berlusconi berlusconi prodi con inter un interludio di martina zolli che era la nuova faccia della politica più vecchia di una mumia e adesso c'è un inciuccio fra pd e pdl che stanno al governo si appoggiano e niente è un'opposizione che si deve preparare per governare adesso vi saluto mi mancano 30 secondi grazie a tutti e tutti voi per seguirmi un saluto speciale a claudio show ea quelli di cd radio calcio dilettanti un saluto dal vostro santen chan e non lasciate di seguirmi